L'eurozona non è in recessione e non c'è il rischio di deflazione. L'ho assicurato il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, in una intervista ad una radio francese. Nell'intera eurozona non vedo rischi di deflazione, ma di inflazione molto bassa per un lungo periodo, ha detto. Ripetendo che l'intera area euro non è in recessione, ma la ripresa è modesta, debole e fragile.